Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, igiene e sicurezza ambientale. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per la competenza dimostrata nel fornire prodotti di qualità, garantendo allo stesso tempo un continuo processo di ricerca e sviluppo, volto a creare formulazioni di derivazione naturale sicure per gli utilizzatori e rispettose dell'ambiente. Per la capacità dimostrata nel declinare la propria expertise nelle diverse aree di business. Il premio va a Copir. In collegamento con me per commentare questo riconoscimento Mario Di Leva, country manager di Copir. Bentrovato e complimenti naturalmente. Buonasera, grazie mille. Buonasera, le posso chiedere subito un commento a caldo? Sì, allora, innanzitutto ringraziamo le fonti e vogliamo ringraziare il vostro comitato scientifico che abbiamo visto composto di persone con un elevato spessore professionale. Vedere che tali persone hanno valutato positivamente il nostro lavoro effettivamente ci riempie d'orgoglio. Poi voglio ringraziare il team Copir. Io sono oggi qua a prendere questo premio, però l'impegno che stanno mettendo questi ragazzi in questo progetto, ormai sono tre anni che ho la fortuna di coordinare questo team, per me è un onore poter lavorare con loro e poter lavorare a questo progetto. Certamente, abbiamo sentito nella motivazione delle parole chiave decisamente importanti, soprattutto le leggo subito a questo, poi lo farà anche lei immagino al periodo che stiamo vivendo. Leggiamo ricerca, sviluppo, poi naturalmente sicure, quindi la parola sicurezza per gli utilizzatori e anche rispettosi dell'ambiente. Insomma, tutti i temi che sono diventati ancora più importanti in questo momento. Assolutamente. Questo è stato un anno molto complicato per le aziende in generale e molto impegnativo per le aziende che sono impegnate nell'igiene ambientale. Noi abbiamo cercato di affrontare l'anno in maniera migliore possibile e soprattutto con l'etica e con la volontà di aiutare in questo periodo difficile. Copier, ormai è tre anni che è partita con un nuovo progetto strategico, con nuove idee, abbiamo di nuovi investitori e sentiamo la fiducia di questi investitori che ci sta permettendo di sviluppare questo progetto in maniera così efficace. Ormai sono tre anni che lavoriamo in maniera aggregata con la nostra casa madre di Zenova Zeltia e questo ci ha permesso di sviluppare in maniera molto più rapida il nostro progetto. Consideri che il nostro obiettivo era cinque anni e l'abbiamo raggiunto in tre. Ok, quindi l'accelerata l'avete già data per primi voi. Immagino che adesso guardando al futuro, così altra domanda insomma che ci porta un po' in prospettiva futura, immagino dobbiate accelerare sempre di più anche per le cause esterne che si sono venute a inserire. Assolutamente, assolutamente. Noi, la nostra azienda continua a lavorare e a basarsi su tre grandi pilastri. Il primo è l'innovazione. Per parlare di futuro ogni tanto bisogna anche parlare di storia. Copier è nata 60 anni fa, l'anno prossimo saranno 60 anni, basandosi su principi attivi naturali, il piretro. Quindi parlare di 60 anni fa di principi attivi naturali, di biologico, non è un'azienda che guardava all'innovazione. Era proprio molto proiettata verso il futuro, cose che sono a oggi moderne. E noi vogliamo continuare su questa idea, cioè continuare a sviluppare know-how. Consideri che quest'anno con la casa madre abbiamo lanciato un progetto corporate che si chiama ZZ Inc Lab, nel quale valutiamo e promuoviamo start-up per lo sviluppo di innovazione nel settore dell'igiene ambientale. Poi un altro pilastro importante per noi è la sostenibilità, cioè noi dobbiamo rendere sicuri gli ambienti nel quale viviamo. E infine, un'altra cosa importante per affrontare il futuro in maniera vincente è lavorare sulla digitalizzazione, cioè non si può pensare di parlare di futuro senza questo tema. È vero, è vero, assolutamente. Insomma, abbiamo aggiunto altri termini decisamente predominanti in questo periodo. Io ringrazio Mario Di Leva, country manager di Copier, naturalmente rinnovo i complimenti a tutto il team e insomma ci rivediamo presto, magari per un prossimo riconoscimento. Grazie mille, è stato un piacere. Anche per noi, grazie e complimenti ancora. Grazie.